Grazie Presidente, mi scuso con tutti voi per la voce e eventualmente per la tosse. Voglio ovviamente ringraziare tutti i senatori che sono intervenuti in questo dibattito che mi è sembrato franco, ma rispettoso e composto. Un dibattito che ha fatto emergere secondo me prevalentemente due cose. La prima è lo stato reale nel quale versa l'Italia, perché sia dagli interventi degli esponenti della maggioranza, sia dagli interventi degli esponenti dell'opposizione nei quali sono stati citati i rapporti della Caritas, la povertà dilagante, i dati sulla disoccupazione, sulla precarietà, sulle condizioni difficili nelle quali versano i più fragili, sulle scarse risorse delle quali disporremo per dare risposte a tutti questi problemi, da questo racconto emerge una realtà, cioè ci aiuta questo racconto a fare una grande operazione di verità sull'Italia che ereditiamo anche da coloro che ne denunciano le condizioni. E che forse è un racconto più sincero da quello che ci è stato fatto in altri tempi, quando si sbandierava e si brindava per l'abolizione della povertà in Italia. È un bene che gli italiani sappiano qual è la condizione che affrontiamo oggi e che ereditiamo. Il secondo elemento dal quale voglio partire è che io sono stata criticata da diversi interventi per aver, nella relazione di ieri, cercato di disegnare una visione, no, ma il manifesto programmatico. È stato detto da alcuni, contestando questa scelta, che gli italiani non si aspettavano da me questo, si aspettavano piuttosto risposte concrete. Non sono d'accordo, ovvero sono d'accordo in parte. Nel senso che io ritengo che senza che vi sia una visione, senza che vi sia a monte un manifesto programmatico, senza che vi siano a monte delle scelte chiare, un'idea di Italia da disegnare, anche le risposte concrete che si danno rischiano di non essere efficaci. E questo noi lo abbiamo visto negli anni scorsi. Lo abbiamo visto quando c'erano governi che mettevano insieme partiti che avevano visioni distinte e contrapposte, ognuno dei quali rivendicava il suo pezzetto di obiettivo, ma quegli obiettivi non stavano insieme. E abbiamo visto spendere centinaia di miliardi di euro, in buona parte scaricandone il debito sui nostri figli che non hanno prodotto neanche lontanamente un miglioramento delle condizioni di questa nazione. Il problema della politica è qui. La ragione per la quale io e i fratelli d'Italia abbiamo scelto di non fare mai parte di governi che erano sostenuti da maggioranze arcobaleno, da maggioranze distoniche, era proprio questo. A maggior ragione quando tu hai risorse limitate devi scegliere. Devi scegliere una strada, scegliere dove vuoi andare, scegliere dove vuoi portare la nazione e poi ragioni sui provvedimenti concreti che ti consentono di arrivare a quella meta. Quindi io ho fatto la scelta di disegnare ieri l'Italia che vorremmo costruire, dove vorremmo andare per poi far calare da quella visione i provvedimenti necessari ad ottenere quella visione. Ora ovviamente io adesso in sede di replica entrerò maggiormente nel merito di alcune questioni, darò alcune spiegazioni. Mi scuso ovviamente se non riuscirò a rispondere a tutti, ad alcune questioni ho già risposto nella replica di ieri, su alcune non tornerò perché vale quello che ho detto ieri, su altre sulle quali forse non sono state abbastanza chiare o che necessitano di ulteriori chiarimenti, volentieri do alcune risposte. A partire dal tema dell'energia, ovviamente è una delle nostre grandi priorità, io ritenevo ieri di averne parlato forse anche troppo abbondantemente, ma giustamente mi si chiede di tornarci e ci torno volentieri. Che cosa bisogna fare? Io credo che per contrastare la situazione molto complessa nella quale ci troviamo si debba lavorare su tre livelli diversi. C'è punto primo il tema del contrasto alla speculazione che per noi è una priorità assoluta, l'ho detto in passato, noi sappiamo qual è la ragione principale per la quale oggi i costi dell'energia sono così alti e prima di continuare a cercare nuove risorse, magari sempre a debito, magari scaricandone sempre il costo sui nostri figli, che stiamo tecnicamente regalando agli speculatori, io credo che la priorità debba essere quella di fermare gli speculatori e quindi è giusto e normale che noi si conti, che si sia sostenuto il lavoro che il governo precedente faceva in questo senso a livello europeo perché le misure più efficaci da quel punto di vista, lo sappiamo tutti e siamo tutti d'accordo su questo, si producono a livello europeo, poi ci sono ovviamente cose che si possono fare anche a livello nazionale, ieri il nostro Ministro Pichetto Fratin ha partecipato al Consiglio dei Ministri dell'Energia a livello europeo, si è fatto qualche ulteriore passo avanti, ovviamente si ragiona con i limiti che sono dati anche dalla difesa delle varie nazioni, del loro interesse nazionale, oggi si ragiona come voi sapete su un price cap dinamico, se ovviamente vedremo i tempi, noi stiamo e continueremo a incalzare l'Europa, a dare soluzioni comune, però io penso che da una parte ci sia il price cap, dall'altra c'è il tema della separazione tra il costo del gas e quello delle altre fonti energetiche, l'Italia si è già mossa in questo senso in parte, noi ovviamente siamo pronti, se anche qui non sarà l'Europa a dare delle risposte, a lavorare a un disaccoppiamento crescente anche sulla base ovviamente di quelle che saranno le determinazioni a livello europeo, l'Europa ha approvato un regolamento che entro fine anno dovrà essere adottato fissando un tetto massimo alle rinnovabili, è ovviamente un lavoro nel quale le determinazioni europee vanno messe in silergia con le determinazioni nazionali, ma tutto quello che si potrà fare anche a livello nazionale per fermare la speculazione siamo pronti ovviamente a farlo. La seconda questione, il secondo livello è l'emergenza in attesa che questi provvedimenti vengano adottati, in attesa che questi provvedimenti diciamo impattino davvero sul costo dell'energia, in parte impattano perché se ne parla ma noi come sappiamo, l'ho detto ieri nella relazione, che il fatto solo di aver discusso a livello europeo di un price cap ha fatto abbassare il costo dell'energia, sappiamo anche che se poi non si procederà con velocità a rendere concrete quelle determinazioni ovviamente la speculazione ripartirà e quindi bisogna essere celeri, ma tutto quello che c'è da fare lo faremo e dicevo intanto c'è un'emergenza immediata e ovviamente ci impegna, penso che occorra lavorare anche qui con molta puntualità, anche con interventi ben calibrati per aiutare nell'immediato le imprese e le famiglie, ovviamente recuperando le risorse nelle pieghe del bilancio ma principalmente recuperandole dagli extraprofitti con una norma che io credo vada riscritta e dall'extragettito che lo Stato comunque produce o ricava diciamo così dall'aumento dei costi dell'energia, dopodiché però queste sono tutte misure diciamo immediate, dopodiché noi abbiamo bisogno e questa è la parte più complessa di soluzioni strutturali, per questo anche qui vi offro qualche elemento, io penso che si debba operare per sbloccare procedure ferme da lustri che se non fossero state bloccate da una burocrazia cieca e da una visione ideologica francamente incomprensibile oggi non costringerebbero a realizzare ricassificatore con procedure di urgenza e gravosi impatti sui territori, penso lo dico al ricassificatore di Gioia Tauro per il quale come ha ricordato il Presidente della Regione Calabria o Chiuto basta un DPCM che lo dichiari opera strategica per ripartire realizzando un impianto in grado di processare da 12 a 16 miliardi di metri cubi di GNL l'anno ed iniziare a costruire nel nostro sud quell'hub energetico nazionale ed europeo con cui ci siamo presentati di fronte agli italiani, su questo tornerò. Anche questo serve a diciamo guadagnare tempo, dopodiché servono misure che nel medio termine liberi l'Italia da una dipendenza energetica che è inaccettabile, penso alla ripresa delle estrazioni di gas nazionale, perché non è possibile che l'Italia ancora oggi fondi larga parte delle proprie politiche energetiche sulle intuizioni di quel grande italiano che citavo ieri che fu Enrico Mattei, ecco io penso che le risorse nazionali vadano ottimizzate come tra l'altro chiede l'Europa perché anche questo è un tema che va considerato visto che lo abbiamo sempre fatto molto presente, penso che debba essere nostro obiettivo anche quello di attuare così la gas release che ci chiedono da oltre un anno le nostre aziende e che anche qui a causa di certo ideologismo non ha trovato attuazione, che ci ha costretto a pagare costi decuplicati di gas, dello stesso gas che noi avremmo potuto pagare a un decimo del costo e che estraggono altre nazioni, perché non è che quando lo estraggono altre nazioni lo stesso gas inquina di meno, noi lo paghiamo di più ma inquina lo stesso e quindi penso che anche su questo bisogna interrogarsi, dopodiché credo che ovviamente si debba tenere conto degli obiettivi europei di potenziamento delle fonti rinnovabili, di promozione delle politiche di fast tracking per rimuovere i vincoli di installazione e realizzazione di impianti rinnovabili, sappiamo che qui c'è una grande dinamica burocratica, una grande questione burocratica che va affrontata, ci sono canali preferenziali che si possono creare per coloro che magari aderiscono a cessioni a costi concordati dell'energia prodotta, si possono abbattere i tempi per l'accesso ai permessi che chiaramente costituiscono un grande ostacolo alla realizzazione degli impianti, anche qui io credo che debba essere chiaro che la sostenibilità ambientale, l'ho detto ieri ma lo ripeto perché è stato anche questo chiesto nuovamente, debba andare di pari passo con la sostenibilità sociale e con la sostenibilità economica. Noi non possiamo pensare, faccio riferimento ad alcune norme che in passato abbiamo contestato, di demolire finiere di eccellenza produttiva nazionale per assecondare obiettivi che erano stati stabiliti prima della guerra e in un contesto completamente diverso da quello con il quale ci interfacciamo oggi e deve essere chiaro che non ci renderemo mai disponibili a passare dalla dipendenza dal gas russo alla dipendenza dalle materie prime cinesi, anche questa non mi sembra una strategia intelligentissima, quindi in Italia bisogna investire sulle produzioni delle componentistiche essenziali per la realizzazione degli impianti rinnovabili perché anche questo è qualcosa su cui si è parlato prima dell'obiettivo prima che di come realizzare quell'obiettivo. Dopodiché credo che queste priorità saranno tra le prime che porteremo avanti in materia di scelte strategiche perché su questi temi l'Italia non può aspettare. Credo che sia cosa buona quando si arriva al governo di una nazione sostenere le stesse cose che si sostenevano il giorno prima e queste cose io le ho sempre sostenute perché sono ovviamente favorevolissima al fatto che l'Europa lavori con intelligenza per arrivare a una diminuzione dello 0,8% delle emissioni ma non sono così d'accordo che lo faccia come ho detto legandosi mani e piedi ad alcune tra le nazioni più inquinanti al mondo perché credo che tutti sappiamo come viene prodotto l'elettrico oggi e quindi credo che l'Europa e l'Italia debbano affrentare anche questa materia che è la materia di come lavorare davvero perché delle emissioni che sono globali globalmente diminuisi. Dopodiché sanità pubblica questo è un tema sul quale effettivamente io mi sono poco soffermata volentieri do qualche elemento in più penso che la sfida sia ovviamente superare l'emergenza ripristinare le prestazioni ordinarie noi abbiamo accumulato un grande gap sulle prestazioni ordinarie e credo che dobbiamo imparare dalla crisi pandemica cosa non ha funzionato nel migliore dei modi per correggerlo secondo alcune linee d'azione io credo che una di quelle linee d'azione debba essere la prossimità riportare la sanità verso i territori valorizzare il ruolo dei medici di medicina generale coinvolgere il sistema delle farmacie nelle erogazioni di alcune prestazioni perché sono uno dei primi presidi ovviamente sul territorio c'è il tema dell'incentivo alla telemedicina alle cure domiciliari i presidi territoriali nelle aree interne tante battaglie che abbiamo condotto in questi anni e che alle quali oggi ovviamente va data continuità io penso che per quello che riguarda la telemedicina gli ospedali debbano entrare a pieno titolo nell'era digitale la digitalizzazione della sanità rende ovviamente più agevole più accessibile lo scambio tra informazioni massimizza i benefici per gli utenti bisogna migliorare la comunicazione tra ospedale e territorio ragioniamo di un unico software sanitario come il fascicolo sanitario elettronico e poi la qualità ovviamente perché il diritto alla salute lo sappiamo riconosciuto in costituzione non è accettabile il dilagare del turismo sanitario che abbiamo conosciuto in questi anni nella nostra nazione e quindi è un obiettivo quello anche di ridurre le disuguaglianze tra le regioni nella erogazione delle prestazioni sanitarie dei lea quindi dei livelli essenziali di assistenza e poi voglio dire che sono d'accordo con quello che dice la collega Lorenzin sul tema del rispetto delle evidenze scientifiche sul tema del riconoscimento del valore della scienza abbiamo sempre riconosciuto il valore della scienza per questo non la scambiamo mai con la religione quello che noi non abbiamo condiviso di quello che si è fatto in passato durante i vostri governi è proprio che non ci fossero in alcuni casi evidenze scientifiche alla base dei provvedimenti che si prendevano è esattamente questo che abbiamo contestato che si scambiasse la scienza con religione perché sono due cose molto diverse perché qualcuno ancora oggi non riesce non riesce a spiegarmi quale fosse l'evidenza scientifica di impedire a ragazzi di 12 anni non vaccinati con un vaccino sul quale la comunità internazionale scientifica non era tutta d'accordo quando quella comunità scientifica internazionale era d'accordo sul fatto che a quei ragazzi facesse bene lo sport noi gli abbiamo impedito di fare dello sport che era una cosa che sicuramente gli faceva bene perché non facevano una cosa sulla quale non c'erano certezze noi abbiamo contestato quello e non lo faremo ancora non riprenderemo quella linea quando si prendono delle decisioni devono essere supportate da evidenze non da scelte politiche perché la scienza non è una scelta politica è un'altra cosa salario minimo questo effettivamente chiedo scusa mi era stato chiesto anche ieri poi nella replica è saltato e l'ho dimenticato diciamo ovviamente colleghi il contrasto al lavoro povero è per tutti noi una priorità il tema è comprendere capirsi su quale sia il modo migliore per combatterlo io penso ad esempio e l'ho detto tante volte e la penso ancora così che il salario minimo legale rischi di non essere una soluzione a questo problema che rischi di essere piuttosto diciamo uno specchietto per le allodole per affrontare questa materia perché perché noi sappiamo bene tutti che in italia la gran parte di coloro che hanno un contratto di lavoro dipendente sono coperti da un contratto collettivo nazionale i contratti collettivi nazionali hanno già dei salari minimi l'unione europea che ha fatto su questo voi lo sapete una direttiva in quella direttiva dice che c'è pari dignità tra salario minimo legale e contratti collettivi e dice di più dice che le nazioni che hanno un'elevata applicazione del contratto collettivo nazionale hanno una percentuale inferiore di lavoratori a basso salario e salari minimi più elevati quindi la sfida secondo me è estendere i contratti estendere la contrattazione collettiva per combattere ovviamente i problemi che ci sono stati dopodiché però anche qui perché i salari sono così bassi in italia i salari sono così bassi in italia signori perché la tassazione sul lavoro è al 46,5 per cento e quindi se noi non partiamo dal taglio del cuneo fiscale i salari saranno bassi comunque e so che su questo siete d'accordo ma rimane il fatto che non l'avete fatto che quando il governo precedente ha avuto 8 miliardi di spende da spendere chiedo scusa sull'anticipazione della riforma fiscale fratelli d'italia chiese dall'opposizione che quegli 8 miliardi fossero concentrati sul taglio del cuneo fiscale è stata fatta una scelta diversa è stata fatta una scelta che ha impattato meno ora qual è l'impegno che noi ci siamo presi io l'ho detto ieri arrivare progressivamente a un taglio del cuneo fiscale di almeno 5 punti due terzi lato lavoratore un terzo lato azienda per i redditi più bassi fino a 35 mila euro che chiaramente è una misura che ha un costo rilevante lo sappiamo tutti ma ci prendiamo questo impegno che è un impegno ovviamente di medio termine ma io credo che quello sia l'unico modo efficace per affrontare davvero questa materia dopodiché si può sicuramente si deve e anche questa è un'altra cosa della quale ho parlato nella mia relazione favorire no il lavoro anche qui noi siamo abituati a un tempo economico nel quale all'aumento della produzione corrisponde automaticamente anche un aumento dell'occupazione oggi non è più così oggi delocalizzazioni meccanizzazioni dei processi globalizzazione non sempre quando aumenta la produzione aumenta l'occupazione è una delle ragioni per le quali la ricchezza si sta concentrando verso l'alto ci sono aziende che hanno fatturati superiori al prodotto interno di intere nazioni che hanno il rapporto a quei fatturati enormi una quantità di dipendenti assolutamente limitata quindi io credo che in questo tempo occorra immaginare una tassazione che favorisca diciamo un rapporto equilibrato tra ciò che si fattura e i dipendenti che si hanno ed è quello che abbiamo diciamo sintetizzato con il più assumi meno paghi cioè una tassazione altro obiettivo chiaramente di medio termine che tenga conto del rapporto di dipendenti che hai rispetto al fatturato più è alta l'incidenza di mano d'opera rispetto al fatturato meno tasse devia lo stato deve convenire assumere si può fare si può iniziare anche con una super deduzione del costo del lavoro avevamo immaginato 120 per cento per chi per la per la maggiore occupazione rispetto al massimo livello del triennio precedente che arrivi a 150 se si assumono dei lavoratori fragili ma può essere questo un tema sul quale forse si trovano anche delle convergenze tassa piatta anche qui vanno fatte un po' di chiarezza perché io credo di non essermi ben spiegata confesso di non aver compreso diciamo la critica del senatore boccia sul regime forfettario cioè non comprendo la ragione per la quale se si evoca un rischio elusione con un tetto a 100.000 euro quel rischio elusione non dovrebbe essere a maggior ragione rischioso col tetto a 65 e quindi forse allora siamo d'accordo perfetto allora le proposte però che io ho fatto sono due una è quella sul regime forfettario l'altra è quella sulla cosiddetta flat tax incrementale cioè una tassa piatta del 15 per cento per iniziare su quanto dichiarato in più rispetto al triennio dell'anno precedente ok e questo lo dico anche per dire al senatore monti che diceva che la tassa piatta non ha molto a che fare col merito che invece credo sia proprio un modo per premiare il merito chi in un momento di difficoltà si rimbocca le maniche e produce di più e fa di più è giusto che venga appreviato è un segnale di merito dopo di che devo dire anche a voi l'ho detto ieri alla camera dei deputati ma probabilmente alcuni di voi potrebbero non aver sentito la mia replica normale ho detto anche ieri che su questo tema della progressività delle tasse prevista in costituzione bisogna stare attenti perché voglio dire oggi noi abbiamo l'ires che è una liquota fissa del 24 per cento sul reddito delle persone fisiche le rendite finanziarie sono sulle rendite finanziarie applicata una liquota fissa del 26 per cento ma soprattutto perdonatemi colleghi il partito democratico introdusse un'imposta fissa di 100 mila euro in sostituzione dell'irpef sui redditi prodotti all'estero per 15 anni per gli iper milionari stranieri che si trasferì che trasferivano in italia alla residenza com'è la tassa piatta va bene per gli iper milionari e non per le parti d'iva PNRR anche qui proviamo a dare un paio di elementi di chiarezza io ho sentito dire tornate indietro perché voi avete detto che avreste stravolto il PNRR adesso non lo vedete più stravolgere se potete anche diciamo mostrarmi la dichiarazione nella quale avrei detto che volevo stravolgere il piano razionale di ripresa e resilienza io vi sarò grata perché noi abbiamo detto una serie di cose una cosa molto chiara non abbiamo mai detto che il PNRR andasse riscritto che andasse stravolto abbiamo detto che volevamo diciamo così sulla base dell'articolo 21 del next generation you che consente agli stati di fare degli aggiustamenti sulla base di scenari che dovessero cambiare di valutare quegli scenari e quali sono quegli scenari facile punto primo il PNRR attuale è stato scritto in un tempo nel quale non c'era ancora la guerra in ucraina i prezzi delle materie prime che affrontiamo oggi la questione energetica come la stiamo affrontando oggi e quindi è lecito non è lecito ragionare per capire se tutte le risorse che sono state immaginate gli interventi che sono stati immaginati nel PNRR sono i più efficaci in questo tempo oppure no e secondo ancora più evidente lancia denuncia allora nel piano nazionale di ripresa e resilienza su 232 miliardi totali 120 miliardi sono ovviamente in opere pubbliche ok lancia denuncia che c'è stato un aumento dei costi delle materie prime del 35 per cento voi pensate che noi senza affrontare questo tema riusciremo a far arrivare a terra quelle risorse temo di no temo che se lo facessimo le gare andrebbero deserte e queste risorse non arriveranno non arriveranno a terra mai si può parlare in modo pragmatico di queste materie e non in modo ideologico come mi pare si continui a fare perché io voglio capire come quelle risorse arrivano a terra come diventano ricchezze ricchezza sono soldi per di più a debito noi abbiamo una responsabilità su quelle risorse e guardate aggiungo una cosa dite va tutto bene sul PNRR tutto perfetto benissimo bellissimo allora il cronoprogramma delle spese del PNRR prevedeva ad aprile 2020 che al 31 dicembre di quest'anno noi avremmo speso 42 miliardi nel DEF di aprile scorso il dato è stato aggiornato a 33,7 miliardi nella nota di aggiornamento del DEF la nota di aggiornamento del DEF dice che nel 2022 noi spenderemo 21 miliardi meno della metà del cronoprogramma è andato tutto bene? Forse non è andato tutto così bene e quindi ovviamente una delle grandi altre grandi responsabilità che ci dovremo caricare è quella di cercare di velocizzare anche l'attuazione del PNRR questione mediterraneo questione meridionale chiedo scusa che qui è stato detto che non ne abbiamo parlato io per la verità ho cercato di dare anche qui un'idea di visione ho parlato di un sud positivo visto come una risorsa non come un problema come terra di investimenti e di crescita e non come terra di mero assistenzialismo non tornerò sul tema del reddito di cittadinanza perché ho già risposto anche ieri e tante altre volte abbiamo parlato di come impedire che i giovani scappino di come impedire che una ricchezza che al sud viene prodotta poi si trasferisca in altri territori e in altre regioni e lo abbiamo fatto anche qui parlando di strategia prevalentemente io ho una idea di quali debbano essere gli elementi sui quali investire maggiormente per lo sviluppo del mezzogiorno abbiamo parlato del marchio abbiamo parlato del mare lo abbiamo anche diciamo fisicizzato con un ministero e di energia perché guardate io penso e l'ho detto nella relazione di ieri che nella tragedia della situazione energetica nella quale noi ci troviamo ci si nasconda anche una piccola grande occasione che riguarda soprattutto il mezzogiorno d'italia i gasdotti del mediterraneo orientale arrivano nel nostro mezzogiorno nel nostro mezzogiorno tutto ci manca fuorché vento mare sole per produrre le rinnovabili con un po' di intelligenza investendo su questo con risorse spese bene torno al tema del pnrr noi potremmo fare del sud italia lab d'approvvigionamento energetico d'europa questa è una risposta che io credo essere molto concreta e sulla quale e sulla quale ovviamente vogliamo lavorare dopodiché bisognerà sbloccare il meccanismo perverso che fino a oggi ci ha impedito di spendere efficacemente i fondi di coesione credo che qui l'obiettivo debba essere quello della promozione di una due diligence su tutte le risorse nazionali e comunitarie per verificare il concreto stato di attuazione delle attività anche diciamo ai fini dell'utilizzo delle nuove risorse credo che si debbano rendere strutturali strumenti come decontribuzione su degli altri meccanismi di incentivo che contribuiscono a generare gli investimenti e poi ovviamente dicevamo dei giovani e di come si fa a garantirli sia con un rinnovamento con una operazione di rinnovamento nella pubblica amministrazione sia attraverso diciamo gli incentivi all'assunzione di cui vi parlavo anche prima come si faccia a favorire che questi ragazzi che giovani che al sud si formano possano quando non vogliono andarsene rimanere e crescere grazie e crescere nelle regioni dalle quali provengono detto al contante io sto andando ovviamente abbastanza così random salto da un tema all'altro ma cerco di dare un po' di risposte dunque in questi anni noi abbiamo assistito dal mio punto di vista una discussione molto ideologica sul tema del tetto al contante collegando sempre il tema dell'utilizzo del denaro contante al fenomeno dell'evasione fiscale ora lo dirò con chiarezza non c'è correlazione tra intensità del limite del contante e la diffusione dell'economia sommersa ci sono paesi in cui il limite non c'è e l'evasione fiscale è bassissima non siete d'accordo? No sono parole di Piercarlo Padoan ministro dell'economia del governo Renzi e del governo Gentiloni dei governi PD sono parole di Piercarlo Padoan del PD sostenuti dal PD e io sono d'accordo col ministro del PD Carlo Padoan sono d'accordo col ministro del PD Piercarlo Padoan anche perché signori vi dico altre due cose scusatemi dico due cose che sono diciamo una di concorrenza e una tecnica strumenti di questo genere in un mercato come quello europeo funzionano se sono uguali per tutti la nostra economia europea di riferimento la Germania non ha un tetto al contante i nostri la nazione l'Austria che confina con noi non ha un tetto al contante in questo ovviamente schema noi rischiamo un pochino diciamo così di non favorire la nostra competitività dopodiché tema tecnico tema tecnico tema tecnico è questo l'unica moneta a corso legale in Italia e in Europa sono le banconote cartacee emesse dalla banca centrale europea la moneta elettronica non è moneta a corso legale è una forma di moneta privata anche queste non sono parole mie le potete trovare sul sito della banca d'Italia e non è un caso che proprio la banca centrale europea abbia richiamato più volte i governi di sinistra sul tema del limite all'utilizzo del denaro contanto che secondo la banca centrale europea europea penalizza proprio i più poveri per questo io confermo che metteremo mano al tetto al contante chiedo scusa voglio dire al collega Bergesio che ha fatto un riferimento a una questione che ovviamente mi ha molto colpito nei giorni scorsi sul tema degli incidenti stradali è una materia che chiaramente è molto presente ma è stata anche posta negli ultimi giorni io credo che da questo punto di vista l'obiettivo non sia quello di appesantire appesantire ulteriormente il quadro normativo credo che occorra piuttosto dare attuazione alle disposizioni vigenti con un sistema di controlli più efficaci e credo che valga la pena anche di ragionare sul tema della prevenzione da questo punto di vista e su questo ovviamente ci sentiamo ci sentiamo impegnati vorrei dare un paio di una risposta alla senatrice Cucchi che ringrazio su due cose sulle quali non sono d'accordo la prima ovviamente non devo dire che conosco l'associazionismo che vengo anche da parte dell'associazionismo che insomma ho conosciuto parecchi ultimi nella mia vita e che su questo sono ovviamente impegnata così come non devo ricordare perché immagino che lei ovviamente lo abbia visto ho letto che ho citato ieri nella mia relazione il tema dei 71 suicidi in carcere che ci sono stati all'inizio di quest'anno anche se poi io e lei non siamo d'accordo su come questo si debba combattere io non sono convinta che la soluzione al sovraffollamento carcerario come è stato fatto negli ultimi anni debba essere quella di depenalizzare io credo nel valore e nel principio della responsabilità lei ha detto una cosa molto bella in riferimento credo all'intervento della senatrice segre che noi dobbiamo saper scegliere il giusto ma come si fa a aiutare chi sceglie il giusto se invece chi sceglie ciò che è sbagliato non paga mai per aver scelto ciò che è sbagliato io penso che la responsabilità stia in questo sono convinta sono convinta che sono convinta che la certezza del diritto dipenda anche dalla certezza della pena senza nulla togliere al tema della rieducazione ovviamente del condannato e penso che per questo servano sicuramente condizioni di vita molto più dignitose nelle nostre carceri e che queste si producano soprattutto diciamo ampliando gli spazi e creando condizioni di vita decisamente migliori che oggi non ci sono e su cui siamo impegnati e l'altra cosa che le devo dire sulla quale diciamo non mi sono trovata d'accordo vede senatrice Cucchi io vengo dalla militanza giovanile ho organizzato tantissime manifestazioni in vita mia in tutta la mia vita non ho mai organizzato una manifestazione per impedire a qualcun altro di dire quello che voleva dire mai non l'ho mai fatto io ho organizzato manifestazioni per dire quello che io volevo dire mai per impedire a qualcun altro di dire perché è suo diritto farlo in democrazia quelli non erano manifestanti pacifici erano manifestanti che facevano un picchetto per impedire che ragazzi che non la pensano come loro potessero dire la loro su questo ci dobbiamo capire senatrice perché la democrazia è nel rispetto delle idee altrui è nel rispetto delle idee altrui altrimenti che cosa facciamo che cosa facciamo noi consentiamo che persone che non la pensano come noi ci impediscano di dire la nostra guardi io se qualcuno scusi e mi taccio se qualcuno della mia parte politica andasse a tentare di bloccare una manifestazione di un'altra parte politica io sarei la prima a condannarlo tant'è che non l'abbiamo mai fatto ok non l'ho mai fatto in vita mia per cui su questo penso che ci si debba comprendere perché vedi noi abbiamo fatto tutta una campagna elettorale con banchetti che venivano devastati contestazioni nelle manifestazioni per non dire di quello che accadeva nelle sedi e nessuno ha detto una parola e poi si viene a parlare a noi di democrazia la democrazia non è per qualcuno diciamo più valida che per altri ecco io chiedo solo a tutti i ragazzi che vorranno manifestare di farlo nel rispetto delle idee altrui e starò sempre dalla loro parte perché io vengo da quella storia ma il fatto che tu abbia qualcosa da dire non impedisce a chi la pensa in maniera diversa dalla tua di poterlo dire è il fondamento della democrazia senatore scarpinato per il tramite del presidente la russa senatore scarpinato vorrei dire che dovrebbe colpirmi che da una persona che ha avuto la responsabilità di giudicare gli imputati nelle aule di tribunale emerga oggi un approccio così smaccatamente ideologico purtroppo mi stupisce fino a un certo punto perché vede l'effetto transfer che lei ha fatto tra neofascismo stragi e sostenitori del presidenzialismo è emblematico dei teoremi con cui parte della magistratura ha costruito processi fallimentari a cominciare dal depistaggio nel primo giudizio per la strage di via D'Amelio e questo è tutto quello che ho da dirle ho replicato ieri e dirò cose simili ma anche qui perché magari non avete sentito la replica sul tema della lotta alla mafia per questa collegandomi sul tema della lotta alla mafia sulla quale sono tornati alcuni colleghi e torno a ribadire che credo che oggi come ho detto ieri in aula la priorità della lotta alla criminalità organizzata sia soprattutto nella capacità di colpire i proventi dell'attività illecita rendendo le risorse che vengono sottratte ai clan disponibili per scopi sociali e istituzionali oggi larga parte di questi beni sono inutilizzati e questo secondo me sarebbe renderli disponibili alla comunità sarebbe un segnale estremamente potente come in alcune volte si è riuscito a fare di uno Stato che ha la meglio sulla criminalità organizzata dopodiché come dicevo anche ieri in aula immagino che saremo d'accordo sul cercare strade comuni per difendere uno degli istituti più efficaci nella lotta alla mafia che diciamo nacque proprio negli anni delle stragi di mafia che è il carcere ostativo un istituto che noi rischiamo di perdere e che credo insieme si debba cercare di difendere sono d'accordo con i colleghi del Movimento 5 Stelle che dicono che l'antimafia non si fa con la retorica sono d'accordo colleghi penso però che non si faccia l'antimafia neanche con i provvedimenti con i quali per esempio avete consentito di far uscire dalle galerie decine di mafiosi al 41 bis con la scusa del rischio di contagio e vado alla conclusione con l'ultimo tema che è il tema della pace mi è stato detto in diversi interventi lei non ha citato la parola pace non so se qualcuno diciamo ritenga che questo significhi che la guerra mi diverte che mi piace che la voglio valorizzare no ovviamente penso e spero e lavoro per quello lavoreremo per quello che possiamo fare per giungere a una pace giusta però dobbiamo capirci su come ci si arriva a una pace e a una pace giusta perché vedete differentemente da quello che pensano molti la pace non si fa sventolando bandiere arcobaleno nelle manifestazioni ok così è difficile ottenere la pace quella in Ucraina è una guerra di aggressione che noi non possiamo accettare non la posso accettare io che figuriamoci ho sempre difeso il principio della legittima difesa e se voglio dire non capisco non ho capito mi dispiace mi perdoni mi perdoni la prego di non intervenire dicevo non lo posso non lo può accettare chi come me crede nella legittima difesa quando il ladro ti entra dentro casa figurati quando una nazione straniera invade la tua e io non credo che ci convenga un mondo come quello che si vuole imporre con quella guerra di aggressione nel quale chi ha maggiore forza militare invade il suo vicino palottoliero alla mano temo che potrebbe non convenirci il punto è che cosa è andato storto nelle intenzioni della Russia che gli ucraini si sono difesi che il sentimento la la convinzione che muoveva un popolo a difendere la sua terra la sua patria la sua integrità territoriale la sua sovranità è stato più forte del resto e perché questo è importante perché vedete l'unica possibilità da che mondo è mondo di diciamo favorire un negoziato nei conflitti è che ci sia un equilibrio tra le forze in campo se uno dei due vince e l'altro perde non c'è bisogno di nessun negoziato a meno che non mi si voglia dire che la pace si ottiene con la resa dell'Ucraina e questo non me lo potete chiedere la pace si ottiene sostenendo l'Ucraina per consentire all'Ucraina di difendersi è l'unica possibilità che abbiamo che le parti in campo possano decidere di negoziare è la storia della geopolitica dopodiché aggiungo un altro elemento che ho detto altre volte in quest'aula rispetto al tema delle sanzioni rispetto al tema delle armi voi sapete che io ho grande stima della nazione che mi trovo oggi a guidare però voi pensate che la posizione italiana decida il conflitto in Ucraina? Cioè se l'Italia domani decidesse di girarsi all'altra parte cosa che io non intendo fare di barattare no o di pensare di poter barattare come dicevo ieri la sua tranquillità con con la libertà dell'Ucraina voi pensate che cambierebbe qualcosa che cosa pensate che farebbe il resto dell'Occidente farebbe esattamente quello che sta facendo oggi la sola Gran Bretagna manda in Ucraina più armi di quante le mandi tutta l'Unione Europea quello che cambierebbe non è l'esito della guerra in Ucraina quello che cambierebbe è il nostro approccio anzi l'approccio che gli altri hanno verso di noi è il nostro destino quello che cambierebbe è la nostra credibilità la nostra capacità di difendere il nostro interesse nazionale su un piano di sicurezza su un piano di credibilità su un piano di difesa dell'interesse nazionale e su un piano commerciale perché vi ricordo anche qui che il nostro volume di esportazione con la Russia è più o meno dell'1,5% e il nostro volume di esportazione con l'Occidente è più o meno dell'80% con la posizione che noi abbiamo sull'Ucraina noi non decidiamo solamente il destino dell'Ucraina decidiamo anche il destino dell'Italia perché io quando personalmente i fratelli d'Italia questa maggioranza quando muoviamo lo facciamo sempre sulla base dell'interesse nazionale e ai colleghi del Movimento 5 Stelle che fanno polemica sulla vicenda del Ministro della Difesa fa abbastanza sorridere colleghi che lo facciate voi e che lo faccia Giuseppe Conte mi chiedo perché il Presidente Conte quando era Presidente del Consiglio non abbia allora venduto le aziende della difesa italiane che producono armi perché non mi risulta che lo abbia fatto allora io ho cercato di dare delle risposte e l'unica che devo dare e concludo è questa è stato detto noi faremo un'opposizione che non sia irresponsabile come lo siete stati voi quando siete stati all'opposizione noi abbiamo sicuramente sempre fatto un'opposizione molto franca non le abbiamo mandate a dire come si direbbe ne io mi aspetto che l'opposizione oggi lo faccia con me sono una persona che sa stare nel lagone della politica credo che insomma il dibattito anche serrato sia il sale della politica sia il sale del confronto democratico però una cosa è certa mi pare che diverse volte si sia potuto contare sul sostegno di quello che era in questo caso parlo per Fratelli d'Italia il partito d'opposizione ricordo quando un esponente del Movimento 5 Stelle di rilievo mi chiamò e mi disse ma per il fatto che state votando e facendo passare con un voto determinante la legge sul taglio dei parlamentari dall'opposizione che cosa vi aspettate in cambio e io risposi niente la votiamo perché la condividiamo è accaduto per quella norma è accaduto per esempio per l'assegno unico è accaduto quando eravamo d'accordo perché nel merito delle questioni quando qualcosa pensiamo possa essere utile o efficace per l'Italia lo abbiamo sempre votato e sostenuto è questo coraggio è questa solamente questa questa lealtà che posso chiedere all'opposizione non di risparmiare le critiche ovviamente non me lo aspetto e sarebbe sbagliato io credo nel valore dell'opposizione però quello che chiedo è che si possa parlare nel merito che non si facciano dibattiti ideologici che sulle grandi questioni di questo tempo noi si possa affrontarle con serietà e con e con profondità perché questo è un tempo nel quale diciamo il posizionamento pregiudiziale rischia di farci perdere qualche occasione per cui mi auguro semplicemente che vogliate nel corso del lavoro di questo governo valutare davvero i provvedimenti nel merito e votarli o non votarli solo sulla base che ne valutiate l'utilità per questa nazione grazie 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 grazie